che è il re minore, anche questo molto molto presente nelle varie canzoni, pop, rock, eccetera. È praticamente quello che abbiamo visto prima, però spostando la nota che abbiamo qua, la spostiamo qua. Proprio per questo motivo dobbiamo cambiare un attimo la disposizione delle dita, quindi abbiamo sempre dalla quarta corda in giù, che è minore, senti che è un po' più triste, ok, malinconico. Abbiamo il medio sul secondo tasto della terza corda, sulla seconda corda abbiamo il terzo tasto con l'anulare e l'indice lo mettiamo al primo tasto della prima corda, quindi ecco che viene fuori il nostro re minore.